come riguarda l'accoglienza nei seminari. Perché, spiega il Papa, è molto difficile che un ragazzo che ha questa tendenza poi non cada, perché vengono pensando che la vita del prete li possa sostenere, ma poi cadono nell'esercizio del Ministero. C'è già ovviamente un putiferio di reazioni da parte delle forze che sostengono i diritti degli omosessuali e dall'altra parte coloro che hanno sostenuto il congresso mondiale della famiglia che dicono era ora che il Papa parlasse così chiaramente. Fai sentire l'aria della prosciaggine! Eccoci qua! Buongiorno! Come vi sentite? State avvertendo una certa aria di frocciata? Il mio daddy vorrebbe che mi maritassi, ma che schifo. Se solo sapesse che non sono solo il suo figlio super top, ma anche un guerriero con il potere arcobaleno, non mi tedierebbe più. Ma nessuno deve sapere il mio segreto segretoso troppo top. ciao Adam, ma che stai facendo? Ciao Orcobello, niente di che. Sto solo facendo del workout per rimanere sempre al top con il mio body troppo cool. Ma come ti sei gonciato per sollevare dei pesi? Perché cosa c'è che non va nel mio body rosa e nei miei scaldamuscoli? Sono super fighissimi, in stile flash dance. Scusami Orco, ma tu di moda non capisci proprio nothing. Ma se sembri una di quelle ciccione delle videocassette anni 80 dei corsi di fitness... Orco! Non starai mica dandomi della grassa? No! Ho solo detto che sembri una delle ciccione dei videocorsi su VHS, ma per come sei vestito, non perché sei grasso. Oh no, sono grassa. Oddio, il mio fisico non è più super top. Adesso devo vomitare la colazione. No! Ma sei serio Adam, ma che stai dicendo? Hai un fisico statuario e poi perché parli di te al femminile? Taci Orco e smettila di farmi body shaming se è ingiusto e poco inclusivo. Tu non hai idea delle lotte che noi altri dobbiamo fare per essere semplicemente considerati normali in questa assurda società. Vergognati! Adam, ma ti droghi? Solo Popper, ma nelle orge con i guys al Pride. Sai che non ho capito un cazzo di quello che hai detto? Lascia stare, strano essere fluttuante senza faccia. Nessuno mi capisce, anzi c'è solo una persona che mi capisce. Ed è il mio voice. Ho bisogno di coccole. Ciao Orco, ci vediamo dopo. Che strano, per un attimo ho avuto il dubbio che sia froccio. Fagottino, sei qui? Fagottino, no. Ehi, sei in casa Castello? Schelluccio, ma dove ti sei cacciato? Oh cazzo. Ciao Bistman, scusa, non volevo disturbarti mentre fai le tue cose nella lettiera. Ma che cazzo dici? Mica caco nella lettiera. Stavo scavando una fossa per una cosa che ha in mente il capo. Sì, sì, ok Top. Ma senti, a proposito, dove Schelluccio? Eh, non posso dirtelo. Dai, ma sei pazza? Vuoi farmi andare fuori di brain? Lo sai che le sorprese mi fanno andare giù di testa. Se non vuoi dirmelo significa che sta preparandomi qualcosa di super top, mega top, troppo top. No, brutta checca. Stavo scavando questa buca per il tuo corpo, mentre aspetto il capo con la sua nuova arma, invincibile. Quindi oggi si gioca al gioco del mistero, bestiolina. Ma tu ascolti quando parlano gli altri. Ehm, ho capito, so come estorcerti delle info più dettagliate sulla sorpresa del mio boys. Sono troppo curioso. In che senso? No, ti prego. Per il potere di Gay School. Che potere, eh? Dai, bestiolina. Adesso mi dici qualcosa sulla sorpresa. Esci dal mio culo. Ehi, pistman, sono tornato. Dove sei? Oh, cazzo, via, 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 via. Scrivama! Come? Se ne vai così? Scrivama! 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 Scrivama!